A D'Angrigento, sabato prossimo, 26 gennaio, a Porta di Ponte, dalle ore 17 in poi, si svolgerà un presidio intitolato «Mai più fascismi, mai più razzismi, restiamo umani», promosso da ampi partigiani, Arci, Lega Ambiente, Libera, CGL, CISL, Will, Caritas, Mondo Altro, Lega Coop, Laici, Comboniani, Centro Pasolini, Istituto Marrone, Unione degli Studenti e Associazione Dino Varisano. Nel corso del presidio vi saranno interventi musicali e culturali. Gli organizzatori sottolineano «Siamo convinti che nel nostro Paese si stia diffondendo ad arte un clima di paura, peso a fomentare intolleranza ed è un clima che mal si concilia con la storia democratica dell'Italia del dopoguerra». L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza a Porta di Ponte. Attraverso questo nostro presidio in programma sabato prossimo da Grigento noi vogliamo dire con forza e con coraggio no ad un clima di odio, di paura e di intolleranza. In Italia ed in Europa si moltiplicano i movimenti neofascisti e con esse le violenze e le aggressioni ai giornalisti, alle associazioni antifasciste, alla carta stampata. Noi vogliamo dire no a questo clima dicendo sì invece ad un'Italia più inclusiva, più aperta, inclusiva, solidale, democratica e soprattutto antifascista. Continuare ad assistere alle scene che anche in questi giorni purtroppo ci stanno accompagnando e rimanere inermi vuol dire sostanzialmente rendersi complici di questo clima di paura che si sta ingenerando nel paese a meri scopi elettoralistici. Allora questo è il tempo del coraggio e soprattutto il tempo di tornare ad occupare spazi fisici, di tornare ad incontrarci e di cominciare a costruire una nuova resistenza. Con l'iniziativa di giorno 26 noi vogliamo rendere visibile quella che è la volontà e l'impegno delle associazioni che hanno aderito a voler tutelare quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e della dichiarazione universale ai diritti umani. Non possiamo rimanere silenti di fronte a quello che è un clima sociale e politico di odio e di intolleranza che sta generando indifferenza, disprezzo, aggressività nei confronti dell'altro, del diverso e dello straniero. Per questo noi abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa ed invitiamo tutti gli agrigentini, i nostri cittadini a partecipare per un agrigento che vuole restare umana. Diceva Martin Luther King, non mi spaventa la violenza dei cattivi, mi spaventa di più il silenzio dei buoni. Noi con questa manifestazione vogliamo dire la nostra, vogliamo coinvolgere tutti i buoni, la parte buona, quella che per noi è la parte buona di questa società e cioè tutti quelli che dicono no a qualsiasi forma di intolleranza, a quelli che dicono no a qualsiasi forma, a qualsiasi manifestazione di omofobia, a quelli che dicono no alla chiusura dei porti, a tutti quelli che dicono no a quei provvedimenti che sono al limite della violazione dei diritti umani. Noi vogliamo che tutti partecipino sabato affinché tutti insieme possiamo contribuire a scrivere una pagina importante nella storia di questo Paese. Invitiamo a partecipare a questa importante iniziativa, visto il momento che l'Italia sta attraversando e perché possiamo rimanere umani e per resistere.